40 giorni di eventi per il Natale Comasco. Tutto pronto per la 22esima edizione della Città dei Balocchi, la chermessa natalizia che da sabato 28 novembre animerà il centro di Como, ma non solo, fino al 6 gennaio. Oggi la presentazione degli eventi dalle conferme alle novità come la musica dal vivo che animerà il Capodanno ai Giardini a Lago, il concerto in Duomo del 14 dicembre o la curira di Natale che si sposterà anche nei quartieri a Sagnino e Albate. Tra le novità il Bosco Incantato che verrà creato nel foie del Teatro Sociale in collaborazione con il Museo del Cavallo Giocattolo che l'anno scorso aveva animato il Broletto con i suoi esemplari. Broletto che quest'anno invece ospiterà Plastici di Trenini con la mostra La Storia in Carrozza. Confermata l'illuminazione di piazze e monumenti con il Como Magic Light Festival che arriverà anche a Portatorre e che l'anno scorso ha ottenuto oltre 120.000 visualizzazioni sui social. Verrà illuminato il 5 dicembre invece l'albero di Natale in piazza Grimoldi. Non mancheranno la pista del ghiaccio in piazza Cavour, per esempio in San Giacomo, le attività per bambini anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine, oltre ovviamente all'arrivo di Babbo Natale e della Befana. Non solo Como e non solo quartieri, la città dei Balocchi quest'anno andrà fino a Cernobbio, per esempio quella pedalata del 13 dicembre, mentre lo spettacolo Natale Liberty verrà portato anche a Brunate, riproducendo così l'alleanza fra le tre città già vista per la candidatura a Capitale della Cultura. Nessuna iniziativa specifica è per l'ultimo arrivato in città il Monumento Libeskind che però avrà una sezione dedicata nel concorso fotografico. Tutto pronto dunque si parte il 28 novembre e al di là delle schermaglie fra organizzatori e amministrazione comunale sul bando per la manifestazione in fatto di vincoli e tempistiche, tutti concordano sulla capacità attrattiva della Kermess. Sicuramente come ci dicono gli albergatori in prospettiva di quest'anno c'è un'attenzione molto particolare anche sui nostri mercatini di Natale come viene in altre parti del nostro paese. Quest'anno c'è un aumento di interesse e proprio per questo ci sarà un turismo maggiore rispetto agli anni precedenti. E dagli organizzatori arriva un appello al Comune. Continuare a collaborare ma però dandoci la possibilità di espanderci anche geograficamente, intendo fisicamente, su quello che è il territorio disponibile attualmente dal bando che abbiamo vinto. Abbiamo una lista d'attesa importante ad esempio sul mercatino perché molta gente viene e chiede di essere presente proprio al mercatino di Natale della città dei Balocchi. Potremmo diventare una delle città leader in Italia sicuramente ed entrare in questo tour dei mercatini di Natale.